Cuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione d'allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancuna in via del commercio 42B, telefono 071 280 4184, email infochiocciolasferapubblicità.it Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Spot! Parti direttamente da Marina Dolica, Conero Boot Noleggio, per una giornata tra amici o in famiglia. Per scoprire le meraviglie della splendida riviera del Conero, gite personalizzate, mezza o intera giornata con possibilità di pranzo e pernottamento a bordo. Uscite al tramutto con aperitivo, noleggio per feste e occasioni speciali. Conero Boot noleggia barche, motoscafi e gummoni con o senza skipper ed è specializzato anche in battute di pesca. Chiama per info. Conero Boot e ad Ancuna, 331 87 26 697, www.coneroboot.it Spot! Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Radio Tua Radio Tua Punto Biancorosso Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, la vostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia da lunedì alla venerdì. Ancora per un po' facciamo questa copertura settimanale, sempre parlando dei colori biancorossi, doppi colori biancorossi da alcuni giorni. Paolo Papili Buonasera Stefano, un saluto ai nostri cari radioascoltatori. Come va? No, dimmelo tu come vai. Io continuo a essere incredulo, è passato qualche giorno ma non mi riprendo più. Non ti riprendo più. Insomma, è così da un po'. Chi è che ti scrive? Noi è da un pezzo che non ci... No, ormai siamo andati, ma chi è che ti scrive così alle 18.40? Chi ti manda le notifiche, i messaggi? Ecco, le notifiche qualcuno me le manda, ma invece questi sono altri tipi di messaggi. Speriamo buoni. Sì, molto, 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 molto. Meno male, meno male. Molto, 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 molto buoni. Bene, bene. Per il proseguo. Bene. Vabbè, questo però magari, chissà se per... Anche tu hai delle sorprese come il presidente Canile in serbo? È probabile, però sai quella... La fuga che abbiamo dovuto fare per una cosa è probabile che magari, chissà, se per l'inizio del campionato già il regalino arriva, ma mai dire mai. Allora, messaggi tanti, anche ieri sera abbiamo chiuso tardi per... Vabbè, ormai siamo... Sì, siamo tornati vecchi fasti, no? Però per parlare qualcosa di bello, perché solitamente tenevamo la linea lungo, ma commentavamo amaramente, fino a tardi, le notizie che si susseguivano per commentare la nostra cara Ancona. Invece, adesso stiamo facendo tardi per commentare cose positive. Tu già inizi a ridere come un forsennato e sono solo 18.40. Vabbè, ma sono cattivi. Ci mandano video, immagini, eccetera. Peccato che non tutto possiamo farvi vedere dietro le quinte, però sappiate che c'è qualcuno che è birichino e sa farci ridere. E noi siamo contenti. Meno male, meno male. Se ci fate ridere perché ci tirate sul morale, anche se in questi giorni non ne abbiamo modo. Allora, dai subito le notizie tecniche, perché poi dicevi, facciamo tardi, le puntate sono belle, però il podcast degli ultimi giorni... Beh, perché probabilmente ti sei perso quando abbiamo informato che, stranamente, in contemporanea a questa nuova avventura, siamo trovati bloccati nella sezione podcast. Non riusciamo più a caricare i nostri podcast, però trovi tutto caricato invece sulla nostra pagina Facebook. Poi adesso, se riusciamo con quei tempi tecnici nostri, magari carichiamo anche su YouTube, così ci avete tutto ovunque. Comunque ha anche scritto Godocomoricio. Beh, quella era la premessa. Poi non trovo il podcast. Ma non trovo il podcast. Però ecco, su Facebook lo trovi, vai sulla nostra pagina, mi raccomando, mettete il like, perché se no non vi arriva neanche la notifica quando siamo in diretta, poi probabilmente tra poco non potrete più commentare se non avete messo il like, quindi fate i bravi, mettete il like, non serve a niente, perché non è che ci paga qualcuno se mettete il like, però serve per arginare un po' di persone. Ciao ragazzi, buona puntata, grazie per la compagnia. Preziosa. Preziosa. Allora, questa sera... Nicola Lupo. Ciao Nicola. Questa sera di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo intanto di nazionale italiana. Dobbiamo prendere tempo, ma affrontiamo un argomento di stretta attualità e cercheremo di agganciare un autorevole collega per fare una breve disamina. Poi, naturalmente, grandissimo spazio ai colori biancorossi, perché sarà con noi il presidente Roberta Nocelli, con Guido Montanari, capo servizio sport del Corriere Adriatico, e i vostri messaggi che potete, state già mandando addirittura dal pomeriggio, al 334 3520 488 sms whatsapp, la mail è diretta a chiocciolaradiotua.it, siamo attivi sulla pagina Facebook di Radio Tu Ancona, quindi aspettiamo anche lì i vostri commenti. Io mi vorrei rifare, rubo qualche minuto, sperando di non far tardi con il nostro ospite, rubo qualche minuto perché il nostro radioascoltatore aveva esordito Godo Comurriccio, però il podcast ci sono già da oggi pomeriggio, ma anche da questa sera, gli eroi del messaggino, che mandano i messaggini dal sud delle mar, che arrivano da Ascoli, da San Benedetto, particolare da Ascoli, come mai? Non eravate così tanto superiori, vi sentivate così bene verso i colori dorici, no? Però adesso da qualche giorno tanta importanza verso l'Ancona, come mai, eroi del messaggino, come mai? Eravate così bravi, solo voi, così belli. Addirittura arriva anche la lezioncina, Stefano, c'è la lezioncina, proprio chi è immune dal ripescaggio, dal cambio di denominazione, però adesso c'è un'importanza clamorosa di nuovo verso i colori biancorossi, addirittura, i social, ormai è uno sfogo, ma addirittura di nuovo a Radio Tua, come non capitava da un po', cari signori, avete, non lo so, timori? No, siete più bravi di tutti, quindi non ci saranno problemi, cari eroi del messaggino, vi aspettavamo, vi aspettavamo da un po', ma ci fa piacere della grandissima compagnia che ci dedicate, state con noi. Poi c'è un'altra notizia da dare, adesso abbiamo scherzato un po', anche per stimolare la conversazione, avremo molte cose da dire anche dell'Anconetano ritrovato, però questa trasmissione vuole unire, non vuole dividere, basta con le guerre fraticide, basta, non ne sopportiamo più da tanto tempo, ma avremo qualcosa da dire anche in confronti dell'amore ritrovato così all'improvviso, probabilmente quest'amore ritrovato così all'improvviso dimentica un po', no? Chi invece in questi ultimi anni c'è sempre stato e si è sporcato le mani, passatemi il termine, sempre con il massimo rispetto per le categorie che abbiamo affrontato e le simpatiche realtà che hanno ospitato l'Ancona, talvolta anche in modo ruvido, crudo, ma anche, dobbiamo dirlo, in maniera egregia, con profondo rispetto. Ciao Paolo, finalmente entusiasmo e serenità, sperando che la FIGC non faccia scherzi, un pronostico per questa amichevole di lusso, ma non lo so, ieri abbiamo sentito il direttore sportivo Miciola che ha espresso a Radio Tua un piacevole desiderio, dice mi piacerebbe tanto ad agosto magari, chissà, organizzare una bella amichevole. Perché non ci chiamiamo Ancona di Nove? Ecco, a proposito di cambi di denominazione, ma l'ho detto, caro amico mio, che hai mandato questo messaggio al 334 35 20 488, è da qualche giorno, ma in particolare oggi pomeriggio a Radio Tua che sono ricomparsi gli eroi del messaggino, che criticano il nostro ritorno, ritorno, udite udite, così pericoloso, proprio da chi era molto spocchioso negli ultimi anni nei confronti d'Orici, una supponenza, un grandissimo, giustamente se lo potevano anche permettere in servi, un po' meno da San Benedetto, devo dire che c'è una sorta di, non so, di rispetto, chiamiamolo così, anche perché poverini anche loro sono stati molto molto sfortunati, però chissà che magari le cose cambino, che non ci sono più i fallimenti pilotati, non c'è più quella ritorno, la promozioncina così, vabbè, mi fai cenno che mi devo calmare, vabbè, però c'è un'altra notizia Stefano che vorremmo dare e soprattutto la commenteremo anche con il presidente Roberta Nocelli che ci farà accompagnare dopo le 19, sì perché alle 18 e 12 è uscito un comunicato che è stato battuto dal comune di Ancona e l'andiamo a leggere, l'andiamo a leggere subito perché la giunta comunale su proposta dell'assessore allo sport Andrea Guidotti ha autorizzato ieri la disputa delle gare e degli allenamenti del Matelica Calcio 1921 allo stadio del Conero per dare via al progetto Ancona Matelica consentendo l'iscrizione al campionato di Lega Pro della stagione 2021-2022 entro il termine stabilito il 21 giugno. In questo modo e con tutta l'attività svolta dal nostro assessorato e dai nostri uffici nelle ultime settimane, afferma il sindaco Valeria Mancinelli, abbiamo creato le condizioni per una nuova opportunità di rilancio della gloriosa storia dell'Anconitana per tornare a fare felici gli appassionati, dare una prospettiva ai giovani e diffondere a testa alta il nome della nostra città. L'amministrazione farà la sua parte come sempre e già ieri abbiamo deliberato ciò che è necessario per dare il via al nuovo progetto, progetto che ha il centro Ancona, Ancona, fa rumore Ancona ma che guarda l'intera provincia e non solo. Questo è infatti un altro modo in cui Ancona esercitando il suo ruolo di capoluogo, cari maestri del bottoncino, del messaggino, cari miei eroide del messaggino, può essere concretamente al servizio dell'intera regione. Dal 2018 fino alla stagione attuale lo stadio del Conrad ha ospitato le gare e gli allenamenti a società di calcio cittadina Ancona SD, partecipante al campionato di calcio di eccellenza. In seguito alle dimissioni del presidente della società, la SS Materica Calcio 1921 che milita il Lega Pro ha presentato all'amministrazione comunale un progetto di calcio giovanile di Lega Pro per il prossimo campionato che prevede l'utilizzo del titolo sportivo del Materica Calcio creando una sinergia che permetterà di contare da un lato su ampio bacino di utenza per i settori giovanili, dall'altro su richiamo di livello del campionato di Lega Pro con infrastrutture all'altezza. Si tratta dunque di un progetto che pone le basi per una sostenibilità a lungo termine e contemporaneamente per fornire un apporto costante alla squadra maggiore e un supporto per la valorizzazione del vivaio giovanile. Che cosa significa questo comunicato che ribadiamo? Commenteremo successivamente anche con Roberta Nocelli che è il presidente dell'Ancona Matelica e con il capo servizio sport del Corriere Adriatico che da qualche giorno tutte le componenti hanno viaggiato all'unisono, ognuno ha fatto la sua parte producendo dei risultati determinanti e io sempre che l'unione fa la forza. Avremo molte cose da dire agli eroi del messaggino quest'oggi però avremo anche molte cose da dire al tifoso ritrovato di questa città che magari sbeffeggiava chi ha seguito l'Ancona in queste in queste annate molto molto difficili da sopportare però siccome c'è un ritrovato entusiasmo, una ritrovata passione, siccome predichiamo come giusto unione dei componenti non facciamo la solita guerra, non andiamo a toglierci i sassolini perché non ne vale la pena dai non ne vale la pena, godiamoci veramente questo bellissimo momento, gli sfottò, fanno parte del calcio certo che non me li aspettavo così tanti all'improvviso così perché uno se è superiore è superiore sempre invece come mai questa irascibilità ecco siete il piano San Lazzaro siete il Matelica occhio però che dopo fuori c'è la curva nord, messaggio dei diffidati ma così salutiamo i diffidati ma naturalmente per saluti convenevoli non era un messaggio da interpretare come minaccia ma quelli del sud e delle marche hanno già scordato il 2013-2014 e il 2014-2015 sì sì lì tutto passato, va sempre tutto bene, tutto bene, il problema sono sempre gli altri che dicono di non calcolare ma poi improvvisamente da martedì si sente il forte rumore dei nemici sportivi che non digeriscono il nostro ritorno paura, non vedo l'ora di incontrarli in campo per zittirli tutti alle Ancona Matelica un saluto a Paolo D'Aufagna, ciao Paolo allora anche oggi a parte questo comunicato è uscita un'altra comunicazione con il cambio di denominazione da parte della Fabiani Matelica anche di questa cosa vorremmo parlarne perché il presidente Mauro Canil quando spiegava il suo progetto alla Mole Vambitelliana ha detto che ok il marchio, lo storico cavaliere sarà presente sulla maglia ma occhio alle sorprese e chissà che magari non è stato trovato un escamotage nel frattempo o che cosa saranno queste sorprese ci ha fatto molto piacere ascoltare le parole di un presidente così carico così entusiasta, così deciso, così deciso a portare avanti il calcio ad Ancona per farci vivere bei momenti sportivi e la città in questo caso sì che dovrà rispondere con presenza e vicinanza ma io sono sicuro che se ci saranno tutte le caratteristiche per poter andare, se questa maledetta pandemia ce la lasceremo veramente alle spalle sono veramente convinto che ci sarà una grandissima risposta, una grandissima partecipazione come non vedevamo da tempo, però qui ci ritorno abbiate sempre rispetto voi che ritornerete di quelli che fino adesso hanno portato avanti la baracca ok ci fermiamo per la pubblicità 18.53 334 35 20 488 sms whatsapp siamo in ritardo con il primo ospite, speriamo di poterlo riagganciare vorremmo farvi questa sorpresa perché è un bel momento calcistico per Ancona sportiva siamo passati veramente dall'inferno al paradiso ma c'è anche una nazionale di calcio che ci sta facendo vedere davvero ottime cose e vorremmo portarvi un testimone che può raccontarci tutte le sue emozioni che tra le altre cose nel racconto della partita solitamente ci fa vivere e come? A tra poco Bugaria e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana al momento della scadenza della tua polizza auto contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% ai immobiliari del gruppo Schiavoni offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432 Dai luce alla tua azienda aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera affissioni di manifesti in tutta Italia circuito poster nella regione Marche pubblicità diretta postalizzazione di materiale pubblicitario realizzazione d'allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita gruppo Sfera pubblicità ti aspetta ad Ancuna in via del commercio 42b telefono 071 280 4184 email info chiacciola Sfera pubblicità punto it dai luce alla tua azienda con Sfera pubblicità Radio Tua Radio Tua la voce della tua città punto bianco rosso sempre per voi il 334 35 20 488 arriva di tutto e di più questa sera vabbè dalla gioia infinita di ieri adesso ci sono pensieri un po' più corposi c'è un po' di tutto e ci sono anche chi stuzzica facendoci anche il sorriso dai si tirano fuori il sorriso ma si ma si ma si ma va bene va bene così anche altri tanti in tanti vedo che state utilizzando Facebook quindi a vostra disposizione anche la pagina Facebook ci scrivono dappertutto ci scrivono dappertutto Instagram non lo usate non ci sono ragazzi non ce la faccio non ho detto non ho detto una cosa se è possibile magari mandate un messaggio vocale c'è questa possibilità non abbiate paura magari Stefano che dovrà affaticarsi un po' per i vari passaggi ma se potete fate in modo di farci ascoltare la vostra bellissima voce e soprattutto non fateci tanto faticare con messaggi chilometrici senza punteggiatura che leggiamo velocemente così allora 334 35 20 488 sms whatsapp io volevo parlare un po' all'inizio di nazionale ma poi mi sono dilungato non so se riusciremo ad agganciare il nostro primo ospite faremo un altro tentativo ma intanto via con i vostri pensieri per chi ha acceso adesso la radio per chi magari sta rientrando io a casa dal mare tra poco perché oggi è una bellissima giornata tra l'altro che solo Ancona Ancona che ha il mare e adesso anche una squadra di calcio a livello professionistico non sembra vero e lo ribadisco è una città meravigliosa che offre diversi sfoghi se noi così insomma abbiamo bisogno di raffreddarci un po' in questo momento avrei anch'io questo desiderio due minuti possiamo raggiungere ogni spiaggia osservare il tramonto eh discorsi più belli di Ancona fare una passeggiata al Porto Antico che è bellissimo poi magari ecco c'è chi in questo momento non ha queste possibilità lo comprendiamo a tutta la nostra solidarietà Paolo dai che passiamo da Stomigacce per Zenga e Trofo a Stomigacce per le cessioni De Volpicelli e Balestrero comunque avete news sul possibile girone B torna il derby dell'Adriatico ti ci vedo bene a fare la radio cronaca al Bruno Nespoli di Olbia beh una trasferta in Sardegna sarebbe davvero fantastica non penso che ci sia il Pescara dalle indiscrezioni dovrebbe essere soltanto il Teramo come Abruzzese poi una Ligure a Chiavari a Entella con la Virtus Entella le Emiliane e poi appunto la formazione dell'Olbia ma saremo in attesa di capire nei prossimi giorni Paolo sei bello carico pensa se stavamo ancora disputando i playoff il miracolo ancora materica si sarebbe averato dopo anni di sfiga la ruota gira cari marchigiani Max 65 tu non sai quanto ho pensato al palo di Riccardi l'ho pensato intensamente in questi giorni perché abbiamo sempre detto mancavano sette giornate mancavano sette giornate mancavano sette giornate quel palo di Riccardi è lì è là sarebbe successa questa cosa qua così bella oppure ripenso all'amarezza di Ancona Montefano con Frinconi che si ritrova un pallone da spingere in rete dopo che Falcogneri va bene poi i risultati rocamboleschi collegamenti da Iesi col collega che diceva purtroppo io non so come dirvelo ma l'Atletico Gallo ha segnato un gol anche adesso cambiata la partita mamma mia qualcuno l'ha paragonato tanto stasera siamo in argomento a Mirko Ventura quel gol al centodiciottesimo minuto forse è un po' esagerato però è un imprevisto sicuramente un imprevisto così chi se l'aspettava quel giorno alcuni di Perugia nessuno no nessuno se l'aspettava sponda curva sud nessuno pure Mirko Ventura lì quell'Anconetano di Colle Marino ha preso palla l'ha messa all'angolino quella bella rasoiata e lì siamo passati veramente non dall'inferno al paradiso lì siamo andati proprio tutti al cardiologico perché sfido chiunque non so c'è gente che è riuscita a reggere quelle emozioni così forti io ho fatto molta fatica devo riconoscerlo e forse il mio cuore malato è segnato da quella volta da quell'11 giugno però ecco negli ultimi giorni con quell'imprevisto così chi se l'aspettava veramente come cambiano le cose chiascolani sono tre giorni che non ci dormono dicono di ignorarci ma soffrono di un morbo di inferiorità nei confronti del loro capoluogo di regione ma dai sarà un momento poi tutto passa tutto passa tutto passa allora mi sono preso questo lo leggiamo anche se è lungo perché è un amico che soffre che ogni estate ci sentiamo puntualmente per confrontarci lo leggo lo leggo lo leggo moltissimo lo leggo moltissimo lo leggo con molto piacere no lo leggo moltissimo mi sono preso qualche giorno di riflessione prima di valutare ed esprimermi su questa nuova situazione che ha stravolto e cambiato in poche ore destino calcistico della nostra città noto entusiasmo e griffa non è proprio radiofonico però lo facciamo passare questa sera perché tanto ultimamente va bene tutto poi si ride Stefano dalla parte del vetro non c'è nessun problema come non si vedeva da tempo qui ritorno serio e devo dire che veramente c'è un entusiasmo pazzesco come non accadeva da tempo e la cosa mi fa mi fa veramente tanto tanto felice perché poi c'è chi la vive in un modo e c'è chi come noi della redazione la viviamo dall'altra parte non sapete quanto possa essere stato duro però riprendo il discorso come non si vedeva da tempo sinceramente di testa capisco ma di cuore faccio ancora un po' fatica non perché faccio il finta moralista ma per delle sensazioni che sono difficili da spiegare ci misi tanto a sentire mia l'ancona di Marinelli ci vorrà un po' di tempo anche per questa dipenderà vai avanti tu Stefano perché come al solito il mouse poi mi fa velocemente perdere il filo molto lavoro che svolgerà questa nuova proprietà che per il momento non posso nascondere mi abbia convinto appieno soprattutto con una frase non vuole personaggi o imprenditori locali se non come sponsor ed ha perfettamente ragione perché chi crede in questo progetto chi per anni ha detto di voler bene all'ancona è ora che tiri fuori gli euro e senza passerella d'onore sento in giro che dovremmo chiamare coinvolgere i tifosi del Matelica anche qui leviamo la maschera di finti moralisti siamo stati tutti complici dicendo sì di questo che in realtà è un pure vero furto parliamoci chiaro e cosa dovrei dire pensatevi abbiamo rubato la squadra a un anno dal vostro centenario mi dispiace solo per sentirmi più pulito con la coscienza no personalmente non posso farlo posso dire che saranno i benvenuti come tutti quelli di fuori che sentiranno questo nuovo progetto anche un po' parte di loro condivido il fatto del territorio mi ricordo quando all'inizio di Curva Nord si parlava di espandere alla provincia il concetto Curva Nord con Massimo per un po' oltre a crederci ci avevamo provato pure poi le nostre tragedie calcistiche ci hanno tagliato le ali non mi sento sporco di coscienza perché noi come molte altre realtà ne abbiamo subite tante siamo spariti dalla Serie B con più di 2 milioni di crediti per un accordo di palazzo tra il loro presidente del Siena e della Triestina con il benestare della Lega ve lo ricordate? e così altre infinite volte dove tutti quelli che oggi sono usciti nuovamente innamorati ben tornati anche a loro stavano a casa a vedere il bel calcio in tv mentre noi venivamo costantemente umiliati nei vari campetti questo è il nuovo calcio e a questo dobbiamo adeguarci e che nessuno venga a farci lezione di morale siamo stati in prima linea su tutte le battaglie che il mondo ultras ha fatto fino a rimanere soli con pochissime altre realtà abbiamo rischiato di chiudere gruppi solo per combattere quello che era una pura chimera in nome di una coerenza che il mondo ultras ha perso da tempo siamo arrivati a più di 80 diffidati il primo anno di eccellenza per provare a combattere la tessera poi come tutti ci siamo adeguati ma come tutti non abbiamo perso l'onore di essere ultras perché l'onore sta nell'uomo che è ultras non nell'ultras che cerca di essere uomo perché quello è solo una maschera leggo le solite cavolate di chi dice non siete l'Ancona e le solite amenità sto edulcurando un po' beh cari Ascolani in questo caso siamo stati forse primi a diventare i proprietari dei simboli dei marchi della nostra squadra e li avremo per sempre avremo fallito mille volte fusi 200 volte ma noi giochiamo sempre con quello stemma nel cuore voi no poi se volete fare bassa ironia sul nome Ancona Amatelica da parte vostra me ne starei in silenzio con il vostro picchio Ascoli ma è tempo del presente è tempo di rimboccarsi le maniche e far crescere questa curva che si trova ad affrontare un bel girone sembra quasi la nostra vecchia serie B era l'ultimo treno rimasto e penso sia stato giusto prenderlo e se avessimo un tantino di fortuna che la nuova proprietà rimanga lungo più dei soliti 4 anni degli ultimi presidenti forse potremmo creare qualcosa di importante ricreare una nuova generazione dopo averne perse negli anni magari adottando la squadra dei pulcini come Curva Nord magari andando nelle scuole a spiegare la nostra passione a regalare una sciarpa o una bandiera ai bambini appena nati solo così entreremo nel territorio e creeremo una nuova generazione di tifosi biancorossi non mi venite a dire che non è da Ultras perché sul manuale non c'è scritto nulla riguardo due ultimi concetti il primo riguarda Marconi e Robert Egydi non pensate di aver salvato la faccia voi siete rimanete quelli che a due giornate alla fine siete scappati e l'ultimo riguarda un po' di politica di palazzo sinceramente siamo stati sempre molto critici ma bisogna essere onesti intellettualmente che da Marconi in poi il vento è cambiato e sarebbe non onesto dire che l'amministrazione sia veramente a fianco della prima squadra della città e lo dico al netto di ogni speculazione politica al di là del mio pensiero politico personale che non coincide con quello di chi governa questa città non cambiano mai invece i soliti politicanti che sfruttano ogni momento bello brutto per proprio tornaconto personale sfruttando le situazioni i tifosi soprattutto quelli che poi hanno fatto parte in prima persona di disastri sportivi purtroppo non vi siete ancora accorti che noi non siamo una massa di invertebrati non pensanti e sarebbe ora che questo stereotipo ve lo togliesse dagli occhi detto questo forse per la prima volta si rema tutti dalla stessa parte speriamo veramente che sia la volta buona e che non arrivi l'ennesima batosta lunga vita a questo nuovo progetto è il messaggio di Cristiano che abbiamo letto integralmente molto lungo ma pieno di concetti che abbiamo voluto ribadire grazie al nostro ascoltatore grazie a Cristiano che ci ha inviato il suo pensiero ma se ne sono aggiunti tantissimi al 334 35 20 488 sms whatsapp e dopo questo messaggio gli eroi della tastierina continuano a mandarci i loro pensieri Paolo ci è cascata la mano dal cielo dobbiamo ringraziare il signor Canil certamente ringraziamo il signor Canil ma anche chi ha permesso questa operazione perché poi ognuno ha il suo pensiero però non è che Mauro Canil è stato coinvolto così si è svegliato una mattina c'è stato un grande lavoro anche da parte di chi è stato criticato Stefano Marconi e l'ha spiegato durante la conferenza stampa poi ci possono essere stati durante il percorso diversi inciampi diversi incidenti diverse situazioni che sul campo non sono andate come si speravano restano degli errori però Stefano Marconi a proposito di imprenditoria locale è quello che nel 2017 è l'unico anconetano che a agosto si è fatto avanti concretamente per prendere la squadra tra i consensi di tutti ha ottenuto lo stadio d'orico ed è stato l'artefice di una situazione che in questo momento ci ha reso felici adesso uno può pensarla come vuole però questi sono i fatti la frase da ricordare a conferenza progetto sul settore giovanile non sulla prima squadra e i genitori che devono stare fuori dai cancelli e spogliatoi questa è una frase che non è passata inosservata attenzione l'hanno detta è notata in moltissimi e questo anche fa capire come si voglia far crescere veramente come deve lavorare un settore giovanile ma non che il nostro quello attuale sta lavorando male attenzione cari signori attenzione perché tutte le squadre giovanili dell'Ancona attuale dell'Anconitana stanno facendo nei rispettivi tornei campionati di vertice quindi bravi gli istruttori bravi a chi non si è fermato bravi a chi ha tenuto botta bravi a chi è riuscito anche a trattenere a convincere a far mantenere i genitori il proprio figlio giocare nell'Anconitana anche in un periodo difficile dove non si sapeva poi come si poteva andare avanti quindi complimenti agli istruttori del bivaio dell'Anconitana lo dicono i risultati che stanno collezionando i ragazzini sul campo e di questo ne parleremo anche tra pochissimo con il presidente Roberta Nocelli che andremo ad agganciare a breve a questo punto non so se vogliamo fermarci di nuovo per la pubblicità ma io direi di sì perché poi avremo anche Guido Montanari capo servizio sport creeremo una community come dicono i più bravi di me e parleremo appunto anche del settore giovanile dei progetti dei regolamenti del comunicato che vi ho letto prima ma lo andrò a leggere a beneficio di tutti coloro si sono posti soltanto al nostro ascolto quello battuto dal comune di Ancona alle 18 e 12 con il Del Conero e con tutti gli incartamenti che sono stati spediti per consentire l'iscrizione al campionato il documento che mancava c'è stata fretta dopo la conferenza stampa da parte dell'amministrazione comunale di chiudere la conferenza e l'ha spiegato apertamente Andrea Guidotti l'assessore allo sport dobbiamo metterci subito al lavoro perché dobbiamo sistemare tutto quello che serve tutti gli aspetti burocratici per iscrivere la squadra in fretta e a tempo di record con un grande lavoro è arrivato il comunicato di oggi che andremo a leggere dopo la pausa pubblicitaria 334-3520-488 sms e whatsapp anche vocali computer new file da più di 18 anni è assistenza vendita e riparazione pc notebook e accessori assistenza a domicilio su appuntamento computer new file è rivenditore della fibra ottica di open fiber con l'operatore go internet la migliore fibra al prezzo più basso del mercato sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana computer new file è ad Ancona in corso carloalberto 84 barra telefono 071-281-4097 ehi se la vista ti si appanna ottica manna qualità garantita griffe e marche prestigiose professionalità decennale Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona zona piano Viale Colombo al centro in piazza Roma ed ora anche al parco commerciale cargo pier con ottica manna light se la vista ti si appanna ottica manna caldaia sicura riprendono gli accertamenti agli impianti termici in base alla normativa vigente gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione se un impianto termico non funziona bene ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente un impianto efficiente permette di risparmiare fai la manutenzione periodica della tua caldaia metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia la tua sicurezza è il bene più importante M.P.S.P.A meglio e prima tratta bene la tua auto vieni a scoprire i servizi offerti dall'officina Lombardi e Moroni zona Vallemiano ad Ancona telefono 071 280 3080 autofficina autorizzata Fiat e Bosch revisioni moto e auto fino a 35 quintali avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche l'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op.MOMO aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici l'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata zona Vallemiano per informazioni chiamalo 071 280 3080 Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua all'interno di Punto Bianco Rosso secondo break pubblicitario siamo pronti già con i nostri successivi ospiti Buonasera Presidente Roberta Nocelli Buonasera Presidente Buonasera a voi Buonasera Guido Montanari Capo Servizio Sport del Corriere Adriatico Grazie per l'ospitalità Mancherebbe Presidente un piacere Paolo ti senti bene Paolo Mi sto riprendendo Come ti senti Paolo Ancora sono un po' così frastornato Non ti sei ripreso No 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 si sente Si sente Ebbè Comunque ne hai ben d'onde Sì Dopo quello che soprattutto tu che hai passato in questi anni andando di persona a fare scampagnate dove ben sai adesso vedere una prospettiva così davanti credo che insomma ne hai tutto il diritto di essere di essere contento anche a livello pratico direi oltre che a livello di di suggestioni perché quello che sta nascendo è qualcosa veramente di suggestivo Se mi sento bene o male la colpa sono di questi signori che hanno organizzato tutto questo quindi Mauro Canilla il Presidente Roberta Nocelli è colpa è colpa tu possiamo darci del tu sì Assolutamente sì ci mancherebbe che non ci diamo del tu Allora no colpa mia no Poi colpa o meriti lo vedremo più avanti in base a come ci comporteremo e quello che sapremo no mettere poi anche alla fine anche in discussione insieme alla città e ai tifosi perché è un lavoro che deve essere fatto di squadra questa è la prima cosa noi ci mettiamo il nostro e cercheremo di essere come siamo stati fino ad oggi comunque seri puntuali precisi e soprattutto come si diceva una volta con qualche pubblicità non vendiamo sogni ma solide realtà è un po' il nostro motto Quali sono state le sensazioni Presidente del giorno dopo dei giorni successivi dopo la conferenza stampa dell'altro giorno? Allora diciamo che sono delle sensazioni su due lati opposti con due umori opposti uno è quello dato dalla piazza di Matelica dove ovviamente ci sono i tifosi che recriminano e hanno magari anche giustamente un po' di di affanno nei nostri confronti se così vogliamo dire perché si vedono comunque la loro realtà che ha raggiunto un sogno come matricola come piccolo paese di montagna all'improvviso fare un passo di un certo tipo e queste sono le prime cose che magari vivendo la quotidianità di casa le senti più vicine come voglio dire le vivi costantemente andando al bar andando al ristorante qualsiasi luogo o uno frequenti dall'altra parte io che dire io un'accoglienza di questo tipo non che non me l'aspettassi perché non credevo nella città di Ancona ci mancherebbe ma perché in generale non siamo stati mai abituati ad avere questo calore e questo affetto sia da parte della città ma io vorrei aggiungere una cosa che mi è sembrata davvero importante in tutto questo è stata la completa apertura di un'amministrazione comunale che pur sposando il progetto da subito perché credo che poi sia un progetto di valore che non sia un progetto di un anno di un anno di un anno di un anno ma quando si parla di giovani si parla di futuro quello che è stato bello secondo me è stato proprio l'apertura anche nei confronti della città e dire è tutto bello va bene però noi ci teniamo a questa città rispettiamo quello che è il mondo dello sport e pertanto vi chiediamo come si dice chiediamo il presidente Marconi che è l'ex presidente dell'Anconetana di presentare questo progetto quindi per noi quello è stato un momento molto importante che ci ha fatto capire anche il valore ci ha aggiunto un valore a quello che già noi avevamo portato perché poi si fa la strada insieme con questa disponibilità con questa disponibilità magari se uno ha qualche remora dice ok ho fatto a questo punto la scelta giusta perché sto trovando quello di cui ho bisogno sì soprattutto un supporto perché io lo ricordo tutti al di là dei come si dice dei campanismi in altro Matelica Calcio ha fatto un anno di Lega Pro il primo anno della sua storia non abbiamo mai fatto campionati professionistici quindi noi l'anno scorso siamo trovati di fronte a delle situazioni che per noi erano completamente nuove ma qualsiasi cosa cambia un mondo tra i direttanti delle serie D e il professionismo quest'anno siamo partiti un po' avvantaggiati dal punto di vista burocratico ma abbiamo trovato nella struttura comunale in tutti gli uffici che hanno collaborato e stanno collaborando per portare a termine tutti i documenti che servono una disponibilità praticamente di 24 ore su 24 notizia di un'ora fa circa il comunicato proprio battuto dall'amministrazione comunale con un sunto che andiamo a fare in questo modo e con tutta l'attività svolta dal nostro assessorato e dal nostro ufficio nelle ultime settimane dice Mancinelli il sindaco abbiamo creato le condizioni per una nuova opportunità di rilancio della gloriosa storia dell'Anconitana per tornare a fare felici gli appassionati dare una prospettiva ai giovani e diffondere a testa alta il nome della nostra città l'amministrazione farà la sua parte ma in particolare il nocciolo della questione era l'aspetto più importante quello per presentare l'iscrizione ovvero la regolamentazione dello stadio del Conero per consentire proprio l'iscrizione al campionato 2020 sentiamo le scadenze del lunedì 21 e stiamo completando i documenti credo che domani mattina li riguarderemo insieme per un controllo ovviamente prima di inviarli anche se per carità se li mandiamo che c'è un problema e domani ci chiamano e ci dicono guardate c'è questo correggiamo non è che in Lega Pro stanno lì con il fucile cercano sempre di collaborare però devo dire che noi la prima volta ci siamo conosciuti con l'assessore lunedì mattino mai visto mai conosciuto mai parlato mai parlato di calcio insieme a lui neanche con i tecnici comunali e tantomeno con Marconi quindi è stato un lavoro veramente veloce ma di un'intensità e di una correttezza e serietà che sfido trovarli da altre parti Guido Montanari e beh qui queste parole fanno tremare un po' i muri perché? è perché se c'è una critica costante è durata tanto tempo da parte di tutti i tifosi è proprio la lontananza dell'amministrazione comunale dalla squadra della città evidentemente qualcosa è cambiato perché abbiamo un ospite che tra un po' non lo sarà più ma ancora è un ospite perché come ha detto giustamente Roberta non conosceva molti di queste cose che ha affrontato negli ultimi giorni lei ci sta facendo un quadro completamente diverso da quello che molti tifosi insomma hanno sempre detto con messaggi alla radio al giornale cioè l'amministrazione comunale non aiuta la prima squadra della città l'amministrazione comunale assente invece io svolgo un ruolo non lo so quello che è successo prima solitamente non mi occupo sempre solo degli affari miei come si dice perché non va invadere mai il campo di nessuno assolutamente io apprezzo quello che vi raccontate io racconto solo la mia esperienza la mia esperienza è completamente positiva siamo contenti di questa cosa solo che ecco fa insomma specie sentire sentire certi discorsi dopo che sono stati per anni fatti tutt'altri vogliamo solo ricordare quello che ha detto il presidente Andrea Marinelli dell'amministrazione comunale anche di recente cioè ha proprio imputato alla lontananza dall'amministrazione comunale verso la squadra della città uno dei proprio il motivo principale per cui lui se n'è andato da ancora e adesso sentire invece una nuova proprietà dire l'esatto contrario fa insomma riflettere oltre che ovviamente fa piacere e credo certo e credo che proprio questo abbia determinato il clamoroso entusiasmo che è stato così riscoperto in un battibaleno perché poi sì è vero che le differenze le fanno anche le categorie ci mancherebbe altro però c'è anche tutto un contorno che poi prepotentemente emerge e raccoglie e raccoglie dei consensi che nessuno poteva prevedere ma vedi Paolo sta succedendo qualcosa di strano perché le cose stanno andando il puzzle si sta mettendo insieme finalmente una volta tante in maniera positiva per l'Ancona quindi è abbastanza strano tutto questo no? sono dieci anni che ormai vediamo che va tutto a rotoli quindi siamo anche un po' non dico sospettosi tra virgolette ma così un po' interdetti di fronte a tante notizie positive sì sì è vero sicuramente ci saranno i momenti difficili i momenti più però insomma siamo in una situazione che una settimana fa nessuno avrebbe mai lontanamente immaginato quindi quando tu parlavi posso dire una cosa se vi posso interrompere l'entusiasmo prego prego io vorrei solo dire questo che per me la differenza quando parlavate due secondi fa di categoria certamente l'entusiasmo del tifoso è giusto che sia così ci mancherebbe altro nel potere io ho letto tutti i comunicati che ha fatto la curva nord come altri commenti di altre persone che ovviamente conoscono la storia dell'Ancona e dell'Anconitana da sempre quindi gente appassionata ho letto tantissime cose che poi me le mandano mi piace comunque leggere anche per capire la storia di chi a chi vado incontro insomma cercare di capire perché poi a fare un errore ci si mette poco secondo me leggendosi conoscendosi e parlarne è la situazione migliore io quello che dico è che la differenza in tutte le cose la fanno le persone sempre in generale se poi ci creiamo delle situazioni dove si equivoca allora per carità tutto può essere poi trascende in qualsiasi commento in qualsiasi situazione che magari uno poteva non neanche conoscere perché poi escono fuori le chiacchiere esce fuori la polemica invece quando c'è trasparenza come ripeto come è stato fatto sia con l'amministrazione sia con i tifosi piuttosto che i giornalisti abbiamo fatto due ore di conferenza stampa un'ora e mezza quindi credo che più limpidi di così non si potesse essere e secondo me questa trasparenza e questo modo di collaborare di lavorare con un obiettivo che sia comune quello di fare bene sia a livello umano giovanile e sportivo potrebbe essere la sinergia giusta per portare avanti questo progetto secondo me ambizioso difficile ma noi vogliamo provarci non impossibile da realizzare Presidente qui stanno arrivando tantissimi pensieri tantissimi commenti siamo travolti da un affetto incredibile cercheremo di leggere qualcosa non approfittando chiaramente della disponibilità ringraziamo Marta Bitti per averci dato questa occasione Presidente se Matelica rimane Matelica noi non possiamo diventare Ancona fa riferimento alla comunicazione di oggi pomeriggio con il cambio di denominazione della Fabiani no la domanda noi abbiamo preso degli accordi con la curva loro lo sanno siamo parlati con gli altri tifosi che sono stati lì e per noi in questa stagione era un passaggio obbligatorio l'avremmo fatto anche a Macerata questo passaggio il Presidente Caniel ha stretto la mano ai tifosi ha dato la parola di fare questo percorso e noi siccome siamo di parola lo saremo con tutti sia con Ancona che con Matelica Chiamiamoci Ancone quando presenterete la maglia vi sembrerà di essere su Marte per un giorno poi Presidente ben arrivata non vediamo l'ora di ripartire sperando di vedere il delconero bianco-rosso popolato ai tifosi bianco-rossi dell'intero territorio accogliendo questo messaggio intelligente soprattutto i tifosi da Matelica che tra l'altro potranno raggiungere lo stadio più facilmente rispetto a Macerata ecco abbiamo anche molti ascoltatori da Matelica che hanno sempre mostrato grande vicinanza in altre categorie purtroppo non è colpa dei tifosi dell'Ancona se è capitato di tutto in questi anni però molti simpatizzanti continuano a seguirci e noi gli invitiamo volentieri ad affluire lo stadio del Conero è un bellissimo gesto io mi auguro che non solo faremo anche di tutto per riuscire a farli avvicinare comunque in questa stagione anche i tifosi del Matelica quelli che sono tifosi storici che ci hanno seguito anche in trasferte importanti che non ci hanno mai abbandonato è vero che non siamo tantissimi a Matelica ovviamente non possiamo fare nessun tipo di proporzione né come città né come tifosi né come storia calgistica non ci permetteremo mai insomma di dare giudizi o di dire qualsiasi cosa che possa mettere in contrapposizione due città e due squadre di calcio quello che dico io è che o si crede in un progetto e si condivide oppure è giusto comunque sia criticare perché le critiche è giusto che ci siano qualche volta servono a far crescere qualche volta sono inutili ecco noi le critiche costruttive le accettiamo tutte mentre quelle stupide neanche le ascoltiamo sono sincera quindi io mi auguro che loro insieme a noi riescano comunque a affrontare questo campionato anche loro in sinergia con tutti perché credo che rivalità sul campo in realtà non ce ne sia stata mai tanta neanche come tifoseria anzi io conosco tantissimi ragazzi di Matelica che qualcuno proprio che insomma è un amico della curva che è venuto spesso spessissimo non solo per la Serie A o altro a tifare Ancona in curva quindi credo che potrebbe essere un motivo di orgoglio per entrambe le città iniziano anche le richieste perché c'è chi vuole lo stadio coperto c'è chi vuole un punto vendita per sviluppare il merchandising c'è chi chiede anche sulla scorta le dichiarazioni del presidente Mauro Canil e del direttore sportivo Michola quando si parlava di Atalanta se avete intenzione di costruire addirittura una cittadella sportiva tipo Zingogne a Bergamo adesso andiamoci piano allora io dico questo io no guarda siamo sempre stati molto chiari e lineari e seri soprattutto noi stiamo entrando abbiamo provato ad entrare in punta di piede però abbiamo visto che la nostra punta ha fatto più scalpore della scarpetta di Cenerentola persa sulla scala questo vi fa capire anche la voglia di calcio che c'è assolutamente però noi dobbiamo ripagare la seducia che ci viene data con cose serie con cose fattibili realizzabili e con non sogni o scatole cinesi piene di nulla quindi noi stiamo iniziando oggi stiamo abbiamo finalmente stiamo iniziando a confermare lo staff che è la cosa principale per quello che riguarda la prima squadra dobbiamo decidere ancora dove vivranno le convenzioni ci stanno chiamando tantissimi ristoranti linee di autobus piuttosto che chi vende la carne piuttosto che chi è l'idraulico ci stanno chiamando tutti per lavorare con noi questo lo dico apertamente come tante persone ci stanno chiamando a sostegno e questa è una cosa veramente bella a cui noi ripeto non siamo abituati e quindi facciamo un passo per volta e facciamo le cose fatte bene però se diciamo una cosa la facciamo la portiamo a termine abbiamo detto quello lo facciamo insieme portiamo i risultati e poi dopo ovviamente come tutte le cose saremo qualcosa verrà fatto bene qualcosa meno bene ma noi importante è farlo sempre con la passione con il cuore e mai per qualsiasi altro interesse uno pensa al direttore sportivo Micciola che ha un ruolo molto delicato però cari ascoltatori questo vi fa capire cosa significa avere una struttura societaria il presidente Nocelli questa sera ce lo sta spiegando che oltre a Micciola che è l'asso di diamante la punta di diamante della compagine societaria poi dietro c'è un lavoro mostruoso che stanno facendo molto bene hanno iniziato a farlo delle figure competenti questo processo di cambiamento nel Matelica è avvenuto la prima volta quattro anni fa quando per la prima volta sono arrivati un direttore sportivo e un allenatore veneto entrambi i veneti e lì è stato il primo cambiamento è stato l'anno in cui Mauro Canile doveva decidere come ha detto più volte se smettere o no perché era disgustato da alcune situazioni veramente difficili rispetto a come ha già detto procuratori giocatori perché poi quando non ha delle figure di esperienza di mestiere questa è un'azienda a tutti gli effetti e se non hai figure al posto giusto rischi tantissimo e solitamente rischi con il portafoglio 2 o con l'immagine 2 e questo è un pericolo veramente grande questo cambiamento piano piano tutti gli anni abbiamo messo dei pezzetti abbiamo fatto un passettino alla volta un direttore sportivo allenatori preparatore dei portieri 10 anni che è con noi il preparatore atletico che ormai ci sono 5 anni anche lui 4 anni che è con noi quest'anno è stato costruito pezzo per pezzo quella struttura societaria che ti permette di avere ognuno le proprie competenze senza invadere mai il campo l'uno dell'altro io non mi permetterei mai di dire a Micciola questo giocatore non mi piace e Micciola non mi dirà mai a me questo albergo non mi piace perché magari la soglia storta ognuno fa le sue cose quando siamo tutti d'accordo e se abbiamo una linea un profilo delle decisioni con dei parametri ognuno porta avanti il proprio lavoro Guido ti leggo questo messaggio di Flavio è 48 ore che mi trattengo adesso sono in macchina da solo vi ascolto e piango grazie su col morale ragazzi sono lacrime sono lacrime di gioia però proprio per questa passione che c'è sta venendo fuori tutto quello che per anni e anni è stato sotto la sotto la cedere no e bastava la scintilla quante volte l'abbiamo detto questa più che una scintilla è un incendio di dimensioni notevoli devo dire la verità però ecco proprio la la presidentessa o presidente non lo so Roberta per voi sono Roberta auguriamo di fondersi non come squadre non come squadre ma come mentalità il prima possibile con la piazza di Ancona questa secondo me è una delle priorità cioè quelle di riuscire ad entrare e già mi sembra che dalle prime mosse state sulla buona strada di entrare nella mentalità di questa città sicuramente difficile sicuramente non facile sicuramente diversa da tutte quelle altre delle marche particolari ma che veramente può dare tanto secondo me ogni piazza ha una storia che sia di calcio che sia di qualsiasi sport ha una storia ha al di là della tifoseria proprio un radicamento e prima di tutto penso che da entrambi le parti quello che deve prevalere è il rispetto sia dell'identità perché noi vogliamo rimanere quello che siamo cioè una famiglia chi ci ha visto alla conferenza stampa ha visto che noi ci siamo mossi e ci muoviamo sempre come famiglia e questo potrebbe sembrare una cosa così di campagna o di montagna per quello che è in materica che è le pendici del mondo san vicino invece non è così la sinergia familiare il rispetto e anche il comportamento da buon padre di famiglia ci permettere di ottimizzare tutti gli sforzi che facciamo per essere al massimo più produttivi anche a livelli di rapporti interpersonali e questo vogliamo cercare di trasmettere quello che siamo noi senza finzioni senza bugie senza sembrare chissà chi ci aspettiamo così di trovare dall'altra parte un'altra famiglia pronta ad accoglierci come siamo con l'impegno che ci mettiamo e magari ci criticheranno assolutamente sarà criticata la squadra come dice il presidente quando andrà bene quando andrà male saremo tutti alle stelle però se capiamo che c'è serietà e voglia di fare sempre meglio di migliorarsi credo che la prospettiva sia sempre buona Presidente io posso dirti questo Guido ha più esperienza di me potrà sicuramente aggiungere o confermare o smentirmi ma io penso che io e lui siamo in sintonia il pubblico di Ancona è molto diffidente cioè l'Anconetano in sé diffidente ma se gli si accende la scintilla se capisce che il treno è quello giusto se gli tocchi quando gli parli la corda giusta ti dà tutto ti dà l'anima partecipa e difficilmente anche riuscirà a farti una critica voi siete su una buona strada siete sulla buona strada perché le parole di Mauro Canil decise sicure hanno fatto colpo poi c'è tutto il contesto sportivo che è inevitabile tralasciare però l'impatto che la piazza ha avuto nei vostri nei vostri riguardi penso che sia sotto gli occhi di tutti e non è un caso Guido sì Paolo però qui è stata fatta un'operazione incredibile è stata fatta un'operazione di altissimo livello torniamoci chiaro perché cioè qui il presidente Canil ha capito che c'era un capologo di regione che poteva offrire tanto e che non offriva niente perché non ci aveva più niente quindi è stata un'operazione intelligentissima stimolata anche dal presidente Marconi perché bisogna dirvi questo lo vorrei io credo questo che nel calcio si possa sbagliare è riuscito Marconi a trovare la via giusta per far saltare due categorie e darla a un imprenditore di specchiata serietà di cui tutte le marche e anche oltre parlano bene quindi è un'operazione di altissimo livello una volta tanto quella che si è consumata finalmente per quanto riguarda il calcio odorico prego Roberto allora io dico che assolutamente questa operazione è stata favorita da Stefano Marconi perché non è che in conferenza stampa magari ovviamente non era il tema principale della serata però quello che ha detto Stefano Marconi ripetuto da Mauro Canil cioè tutto è avvenuto per vicissitudini che erano sicuramente extra angoretane per vicissitudini che ci stavano riguardando che rimbalzavano sui giornali ovunque rispetto alla situazione di Macerata Stefano Marconi giustamente al di là ripeto che gli errori calcistici o la sottovalutazione ma le situazioni qui non siamo noi abbiamo fatto tantissimi nel passato e ve li ho raccontati prima di tutti i tipi perché finché non siamo una struttura di un certo livello è difficile però è stato merito suo merito suo questo io lo voglio ricordare perché è la verità come ho detto le altre cose dico anche questa perché mi sembra giusto specificarlo che poi dopo di seguito quando siamo seduti al tavolo che l'assessore i tecnici comunali quando hanno visto ovviamente di chi stavamo parlando e di cosa stavamo parlando hanno capito l'importanza del progetto e si sono mossi come vi ho detto prima quindi io do sempre a Cesare quello che è di Cesare vediamo di leggere vediamo di leggere dei messaggi eccola qua scrive Angela vorrei dare alla Presidente Nocelli il benvenuto e augurarle un buon lavoro da un club femminile ad un esponente importante della nuova società vorrei dire che siamo felici di avere così tante donne in ruoli strategici al piacere di vederci presto del Coner lo scrive Angela del club Noi Biancorosse bellissimo poi ce ne sono ancora vediamo ancora di trattenere Roberta Nocelli Presidente benvenuta Presidente mi sa che stasera troppa gente di Ancona sta piangendo dalla felicità grazie Roberta poi sarebbe bello davvero abbracciare il fratello di Matelica e gioire e piange insieme per i nostri stessi colori ma io penso che siamo sulla buona strada perché poi le cose si aggiustano si sistemano e quindi voglio sperare proprio che questa cosa possa accadere ci chiedono di Micio la vogliono conoscere meglio per il Presidente l'abbiamo ascoltato ieri vogliono subito notizie della squadra ma Micio l'ha già spiegato che lui ha bisogno dei suoi tempi non ama proclami in pieno stile vi dico un'altra cosa io sono una persona ecco anche questo conta molto secondo me sul rapporto con tutti sia che sia la stampa che siano i tifosi allora come ha detto il Presidente il mister ha fatto 23 giorni di Covid di cui 15 un pensiero per lui lo vogliamo spendere siamo molto vicini prima di tutti io dico che come Matelica quella è la prima partita importante di tutta la storia vinta perché sono stati giorni difficili difficili per lui ma anche difficili per noi perché siamo stati sempre a fianco perché è stata una persona è una persona eccezionale quindi Micio ha i suoi tempi ovviamente e poi è una persona molto riservata questo purtroppo magari questa piazza potrebbe essere tra virgolette un problema ma noi abbiamo sempre operato così con calma con silenzio con rispetto non diciamo cose fuori posto non rilasciamo dichiarazioni perché questo proprio per tutelare quello che poi sarà il gruppo il futuro il lavoro perché altrimenti si perde tutto si perde tutto invece questa chioccia che noi facciamo intorno alla squadra non è una chioccia di protezione verso i giocatori ma verso il lavoro di tutti perché vogliamo portare a termine i nostri progetti e lo vogliamo fare seriamente non vogliamo dare spazio a infiltrazioni intromissioni a chiacchiere perché altrimenti si butta via tutto nel calcio non per sfondare per forza la porta dei vostri segreti non per forzare lo scrigno ma tu che hai visto giocare lo scorso anno il Matelica così bene con tanti giocatori che poi sono desiderati da altri club se chiudi gli occhi che ancora immagini il prossimo anno perché poi è difficile ripetersi o addirittura provare a fare meglio allora io conoscendo il direttore sportivo e l'allenatore quello che non mancherà mai in qualsiasi quest'anno il prossimo anno saranno giocatori di carattere giocatori che si spendono che danno il sangue tanto potete vedere qualsiasi partita dello scorso anno non ci siamo mai fermati mai dati per vinti lo dimostro la partita con il Cesena se me lo consentite perché al 94 al 95 credo che io ancora ho i brividi ogni tanto me la ripubblico sul mio profilo di Facebook perché devo risentire quell'adrenalina quel brivido io non sono una signora dello stadio questo lo dico chiaramente io sono una che dice parolacce allo stadio sono una che ti fa come dico io mi accanisco io ho detto pure all'assessore io mi vedo bene piuttosto in curva ecco ma infatti c'è chi ti sta invitando in curva c'è chi ti sta invitando in curva io mi metto di più perché mi sento libera perché poi lì non c'è chi ti riprende chi ti ascolta chi ti registra e allora per me è passione vera per me il calcio è quasi una droga quindi per me la domenica è già è adrenalina pre partita io mi alzo e già sono in pre partita Dorico Dorico ti scrive felice di salutare Roberta Nocelli primo presidente donna della lunga storia dell'Ancona pare bulla un bel po' poi c'è proprio chi ti invita in curva a vedere le partite quindi se avevi fatto un pensiero il desiderio è stato accolto se saresti la benvenuta non so se abbiamo un messaggio audio da far ascoltare ai nostri ospiti che Guido Montanari il presidente e Roberta Nocelli poi vi salutiamo non vogliamo veramente abusare ancora del vostro gentile tempo che ci avete messo a disposizione sempre 334 3520 488 sms whatsapp anche vocale noi proponiamo il messaggio che ci ha mandato Maurizio buonasera presidente sono Maurizio tifoso da 50 anni dell'Ancona avevo 10 anni ne ho 62 io mio padre mio fratello abbiamo seguito l'Ancona un po' dappertutto le chiedo quanti abbonamenti si aspetta per questa stagione tanti tanti auguri che i colori bianco rossi si facciano rispettare in tutti i campi la ringrazio e sono emozionato grazie 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 Roberto rispondo? prego io mi aspetto il numero di abbonamenti diciamo proporzionato alla passione che vi sto trasmettendo che opera il calcio Guido che invece conosce meglio la piazza quanti se ne aspetta? intanto bisogna vedere il tipo di campagna acquistica che opererà la società e l'obiettivo che poi le parole magari dicono una tranquilla salvezza ma se prendi certi giocatori è chiaro che non è una tranquilla salvezza quindi anche quello sicuramente influirà sugli abbonamenti però di base credo un buon numero perché questo entusiasmo questa incredibile opportunità di ritornare a far calcio tra i professionisti che sembravano lontani anni luce sicuramente muoverà muoverà le coscienze la passione di tanta gente che si era stancata di umiliazioni incredibili e che aveva mollato secondo me Zoccolo Duro sempre presente anche quando era veramente impossibile seguire l'Ancona ma oltre a loro sicuramente ci saranno altri altri che si aggiungeranno il numero non te lo so dire ma sicuramente qualcosa di un futuro finalmente almeno sperandolo Roseo dopo tanti tunnel neri tra l'altro non meritati dai tifosi di questa città perché facevamo il conto delle serie perse negli ultimi vent'anni se ma sono sette a tavolino perse sette dopo se ce ne danno due siamo sempre in debito di cinque sì esatto le prendiamo quindi prendiamo c'è la gente che scrive che fa i saputoni i moralisti facciamone a meno veramente perché quello che ha sofferto la tifoseria non c'è pari in tutta Italia veramente non c'è pari dico sempre che è l'ultimo messaggio Guido scusa ma non voglio trattenere ancora Roberta Nocelli il presidente al telefono lascio proprio ho cercato di fare contenti tutti i nostri radiascoltatori Leo scrive Presidentessa benvenuta ad Ancona può dirci se ci sono anticipazioni sulle maglie avremo insieme delle grandi soddisfazioni grazie forza Biancorossi allora quello che vi assicuro che prima di scegliere la maglia e di farla stiamo già per questo stiamo già lavorando però comunque sia visto che c'è stata una richiesta importante cercheremo di coinvolgere su questa cosa in modo tale che poi sia una scelta diciamo condivisa anche questa grazie grazie presidente grazie Roberta Nocelli è piacere di ritrovarti sulle nostre frequenze ok ringrazio tanto buona saluta a tutti grazie tutti voi Ancona e tutti i tifosi grazie mille grazie 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 a Roberta Nocelli lunga intervista tanti spunti tanti messaggi Guido anche tu sei di corsa però vorrei trattenerti ancora un momento per la chiosa perché poi c'è gente che sì ci hanno scritto che stanno piangendo dalle emozioni sono tutti contenti ma c'è anche gente che è interessata a te Massimiliano ha scritto Guido dici qualcosa dici come stai tu eh io sto bene finalmente moralmente sono risollevato ragazzi perché sapete quanto ci tengo e sapete quanto ho tribolato come tutti voi in questi anni siamo salvati ricordando un pochino i bei tempi con delle foto meravigliose abbiamo ricordato gli anniversari della serie A della serie B però in realtà giocavamo con cortile della casa nostra quindi ci hanno tenuto su quei bei ricordi adesso speriamo di mantenerli ma di farne altri di costruirne altri dei bei ricordi per i nostri figli per i nostri nipoti io penso che era ora scossa o no beh mi sembra che ci siano le premesse c'è grande entusiasmo alla dirigenza del Materica consiglio solo umilmente di sì continuare a essere una famiglia ma di adeguare questa famiglia ad un capoluogo di regione che ha le sue ovviamente esigenze dove ci sono due giornali ci sono radio televisioni insomma è un mondo completamente diverso quindi ok al concetto di famiglia ma ecco un saltino anche per capire che la famiglia va adeguata adesso la casa è più grande e la famiglia deve arredarla in maniera magari diversa rispetto a prima e c'è un buon vicinato però questa famiglia è un buon vicinato che è felice di sostenerla di appoggiarla quindi io penso Guido che le prerogative veramente ci sono tutte perché poi non stiamo parlando di una persona che viene da Roma accompagnato da notai avvocati di cui si sa poco di cui magari per coprirsi la faccia per sentirsi più bello porta all'allenatore che ha vinto che ha ottenuto che è il benvoluto e qui invece c'è una situazione diversa qui è tutta un'altra si sa chi è Mauro Canil è una storia diversa quindi ci sentiamo di sbilanciarci un pochino e probabilmente se c'è questo entusiasmo è proprio perché i nostri radioascoltatori l'hanno capito i tifosi dell'Ancona hanno capito hanno intuito si ha intuito subito perché il presidente Canil ha detto poche parole ma l'avete molto chiare molto è stato diretto è una cosa che piace molto tra l'altro agli anconetani questo modo di fare poco retorico e quindi è andato subito al nocciolo si è subito messo d'accordo tra virgolette comunque penso di sì si è messo d'accordo con la curva per quanto riguarda il nome e lo stemma ed era fondamentale secondo me perché quella parte lì della tifoseria veramente merita rispetto secondo me perché è sulla posta di proprio loro in questi ultimi anni che non hanno mai mollato perché molti sono persi per strada ma la loro organizzazione del loro tifo si è fatto vedere finché il covid ce l'ha permesso in tutti i più piccoli stadi delle marche io penso che è una bella soddisfazione anche loro ce la meritavano come tutti però loro non hanno mai mollato bisogna essere onesti molti hanno giustamente anche loro perché a Italia io non voglio criticare chi non andava a vedere ancora in età anche un età atletico gallo però chi c'era chi c'è rimasto insomma io penso che siano giorni importanti anche noi ci siamo rimasti Paolo sempre dietro a Ancona sempre non è che siamo tifosi di Utah della curva però nel nostro piccolo comunque abbiamo seguito la squadra veramente in ogni dove e anche noi ci chiedeva reo ascoltatore come ti senti e te me sento bene adesso sì mi fatti Federico ha scritto sento guido finalmente è normale che sia così Federico ha scritto sento finalmente guido in salute ma no per agganciarmi al discorso a livello morale sì in effetti ci voleva questa botta all'adrenalina per agganciarmi al discorso guido sui nostri sforzi il seguito che abbiamo cercato sempre di mantenere preciso e costante come se fossimo in serie B se fossimo stati in serie B di Bologna lo abbiamo lo abbiamo fatto tenendo duro aspettando questo questo aspettavamo abbiamo tenuto botta anni ed è venuto fuori dal nulla vedi Paolo è incredibile è venuto fuori dal nulla da un cappella a cilindro è incredibile è venuta fuori questa incredibile opportunità che ci riporta con la testa fuori dalla melma ci voleva ci voleva forse eravamo arrivati proprio al dunque però dopo quello che è successo quest'anno con la mancata neanche qualificazione per i pre-off le polemiche le casini mostruosi veramente il calcio alconetano era allumicino però se andavamo avanti la domanda sorge spontanea se andavamo avanti probabilmente non c'era questa questa situazione cioè da un momento di disperazione di sconforto è venuta fuori una cosa bellissima travolgente bellissima bellissima soprattutto perché è inaspettata e soprattutto perché mette su piazza una persona unanimamente conosciuta come un grande conoscitore di calcio una persona seria una persona che vuole investire la battuta che ha fatto a Marconi sarà cinque anni con noi come sponsor io spero che ce ne stia venti gli ha detto durante la conferenza quindi è chiaro che il progetto del presidente Canile arrivato a Lancona è quello a lungo termine e finalmente chissà che ci divertiremo pure noi sarebbe ora sarebbe ora Guido ti lascio grazie per la tua disponibilità niente un abbraccio a tutti ragazzi salute ciao Guido 1952 su Radio 2 a Punto Bianco Rosso abbiamo ascoltato presidente Roberta Nocelli abbiamo ascoltato Guido Montanari capo servizio sport e il Corriere Adriatico 334 35 20 488 sms whatsapp i vostri messaggi però io vorrei ascoltare il pensiero dell'editore Stefano Fera che a proposito di sacrifici chi meglio di lui può dirci cosa pensa bella questa cosa insomma mi tiri in ballo così no ci puoi pensare puoi farla alla fine se vuoi io vado avanti con i messaggi che sono tantissimi poi fai il tuo no no assolutamente comunque la penso come i tanti che ci stanno scrivendo adesso ma no il ma è un po' di agitazione un po' di agitazione perché in ogni caso stiamo parlando di una per noi nuova realtà che abbiamo seguito a distanza abbiamo tifato e in quest'ultimo periodo e ancora non c'era niente di nessun collegamento tra l'Ancona e il Matelica ma abbiamo tifato per una società che vedevamo in difficoltà non per per la società ma per quello che stava venendo attorno quindi come classica squadra di provincia penalizzata rispetto alle altre realtà una cosa che noi conosciamo bene perché cambia il nome ma la situazione in certi posti è la stessa e quindi però per noi è una nuova realtà si confidava magari con l'Ardivo che avremmo visto la stessa squadra che è scesa in campo invece abbiamo scoperto che sarà una nuova squadra quasi completamente rispetto a quella che è scesa in campo quindi tante incognite tutte da scoprire ma come dicevamo in tempi tranquilli e poi lì c'è il campo che decide quindi non è che siamo noi che possiamo dire o disfare io credo sai Stefano perché giustamente però c'è una struttura organizzata c'è una struttura organizzata io credo che la squadra non sarà smembrata sceglieranno i giocatori più meritevoli di rimanere ad Ancona e sono molti visto il campionato adesso c'è anche questo aspetto più appetibile certo poi bisognerà vedere come cassa di risonanza come cassa di risonanza bisognerà vedere anche il giocatore libero mentalmente senza pressione perché è un conto magari esprimersi senza pressioni mediatiche da una parte è un conto farà ad Ancona ma noi siamo sicuri vista l'abilità del direttore sportivo Micciola che io stimo da anni sto seguendo e forse ho sempre sperato che un giorno veramente potesse arrivare ad Ancona io sono convinto che anche queste trasmissioni che stiamo facendo con gli interventi del pubblico che segue da casa e manda un messaggio e non stiamo censurando nulla magari scusateci non facciamo a tempo a leggere tutto quello che mandate perché siete veramente tantissimi a proposito io spesso parliamo di del nostro amico Giuseppe Pandolfi che ci segue dal Giappone io mi alzerei in piedi in questo istante per applaudire l'ascoltatore che ci sta seguendo da Helsinki interessato alle vicende alle vicende dell'Ancona poi ci sono tanti altri qui ricominciamo dalla trasmissione iniziale dall'inizio della trasmissione gli eroi della tastiera che continuano a provocare ma dopo l'intervento da Roberta Nocelli di Guido Montanari dei vostri pensieri tutto passa in secondo piano ma ritornando a Micio al direttore sportivo io sono sicuro che con l'entusiasmo che stiamo in questi giorni manifestando con tutto quello che ci stiamo inventando stiamo anche non solo responsabilizzando ma caricando positivamente Mauro Canil uno che non ama fare figuracce in campo e quindi io credo che farà veramente tutto il possibile per proporre in campo una squadra una squadra più che forte più che forte per fare addirittura meglio dell'anno dell'anno scorso al primo anno in il Lega Pro il Matelica è arrivato in fondo sfiorando veramente un'impresona quella di arrivare a giocarsi le ultime partite decisive per la B e se non ci è riuscita perché ad un certo punto ha dovuto rinunciare a diversi giocatori importanti messi al tappeto alla pandemia dal covid che ha coinvolto anche l'allenatore Colavito il mister che sarà confermato e che speriamo di poter conoscere presto anche per abbracciarlo incoraggiarlo perché il covid e io ne so qualcosa purtroppo è molto difficile da da sconfiggere soprattutto è una cosa che ti segna a livello psicologico però il mister è uscito dall'ospedale dopo aver vinto la sua la sua battaglia con la notizia che è l'allenatore della Cona quindi sarà sicuramente molto carico anche lui e speriamo di ascoltare presto 19.54 c'è questa bella domanda che ci fa Gino ma se si giocasse oggi quante persone potrebbero entrare al Conero io rifarei di corsa l'abbonamento non mi spaventa il costo ma purtroppo regole incerte Gino intanto abbiamo apprezzato la tua buona musica prima della trasmissione ti ringraziamo per averci fatto compagnia ti ringraziano anche i nostri radioascoltatori è un punto interrogativo per ora cercheremo di saperne di più ti promettiamo vi promettiamo che nelle prossime trasmissioni cercheremo di occuparcene meglio Cristiano anche gli ascolani stanno piangendo ma non dà la gioia come noi Federico che scrive finalmente sento Guido in salute e ce n'era un altro sempre per Guido perché si preoccupano i nostri ascoltatori barra tifosi di Guido Montanari il tono del lunedì dopo una domenica negativa Massimo sulla nostra pagina Facebook scrive Paolo dia Guido che è tutto vero è vero ce lo stiamo ripetendo anche in privato in questi giorni la presidentessa ha scritto Vanessa mi piace un bel po' sì scusa allora Vanessa la presidentessa mi piace un bel po' Vanessa non fare scherzi ho letto qualche messaggino che eri un po' così incerta ma poi alla fine come fai a stare lontana da quelle magliette io sono sicuro che ci ritroveremo ci ritroveremo in tribuna ragazzi siete grandi ci avete accompagnato in tutte le avventure senza cedere mai il passo all'oscuramento generale Stefano ti voglio tanto tanto bene hai capito? Povera Angela che è successo ad Angela? no appunto con l'ultima frase Povera Angela Angela grazie vogliamo tantissimo bene alle ragazze del club noi bianco rosse sempre presenti sempre attive è vero è vero spesso ci hanno fatto compagnia anche loro durante un abbraccio a Sonia a Sonia sì sì non ne dimentichiamo una io saluto la famiglia Morbidoni in questo momento saluto Chiara Roberta saluto al mio caro amico Corrado Monica Aurora Lorenzo la famiglia Morbidoni in questo momento ha bisogno di calore di vicinanza e quindi mando un abbraccio un bacio dal profondo del mio cuore oggi ho saputo delle cose che mi hanno un po' scombusolato quindi non so quanto possano far bene le mie parole durante questa trasmissione sportiva però famiglia Morbidoni tifosissima se all'ascolto spero possa avere un po' più di piacere Paolo viva per tutto il popolo d'orico una domanda sei più felice per la serie C o per l'arrivo di Canil non puoi rispondere entrambi sono più felice per la presenza di Canil guarda che cosa ti dico Claudio perché c'è un futuro perché ho capito che si può far qualcosa di importante però certo mi hai messo di fronte un bel bivio buonasera presidente Roberto buon lavoro mi spiace per Giampaolo non l'abbiamo visto prima essendo anch'io di San Severino conosco bene la stima che ha tutta la gente di qui verso Canil e voi Mauro Canil è stimato da qualsiasi persona professionista operaio commerciante e via dicendo buon lavoro non so se è mai stata da noi comunque l'aspettiamo qui in piazza del popolo a San Severino sappia che la mia gelateria è un feudo bianco rosso e via vai di tifosi dorici quanto capitano in queste zone forza ancora matelica e poi aggiunge Giampaolo Colavitto è uno dei migliori mister della categoria adora e ha una grande possibilità di diventare un bravo anche sopra bene speriamo appunto di conoscere Colavitto al più presto c'erano dei messaggi vocali Stefano che stavi preparando un po' lunghetti ci prendiamo tutto il tempo li recupereremo magari adesso Mattia Mattia cara press ah no era più lungo gli tira tutti il ciondolino che Canilla ha scelto a noi solo chi è venuto alla Gabello contro il Borghetto può capire cara presidente immagina quell'adrenalina Cesena con 500 Anconetani io Mattia penso che saremo molto di più anche perché dovrebbe esserci ancora un caro amico che gioca a Cesena sto parlando del capitano di Luca Ricci perché è a Cesena Luca Ricci quest'anno chissà se avremo il piacere di ritrovarlo eh Luca Ricci grandissimo capitano dell'ultima serie C c'è tanta gente che piange piangiamo tutti ragazzi questa sera girone B della serie C come quello di una volta Ancona calcio mare moscioli e passione bianco rossa al 100% saluti a Paolo da Gianluca Ancona e Matelica tutti uniti al del Conero può involgere anche le associazioni di categoria queste sono le raccomandazioni di Gianluca prendo il mouse mi sono mi sono allontanato dal microfono per un attimo e chiedo scusa Gianni Red propongo un nome nuovo per noi Unione Sportiva San Ceriago Roberta Novelli lei può diventare famosa come la presidentessa della Prolanciano in serie B parecchi anni addietro Montanari non ti meravigliare di niente il fatto è che dopo Marcaccio ci sono stati solo incompetenti in quel ruolo va bene poi ancora commenti vediamo di riprenderli tutti Fabrizio no Vanessa Paolo sono un po' scoionata perché mi dispiace tanto per i tifosi del Matelica perché avrei voluto riprendere la serie C sul campo magari con questa splendida famiglia così nessuno poteva discorre ma tranquillo ci sarò sicuramente sempre forza Ancona Matelica vi abbraccio forte a tutti grazie grazie Vanessa sì ho un pensiero sicuramente per i tifosi del Matelica per gli abitanti di Matelica ce l'ho avuto non posso dire di no però noi non è che abbiamo avuto tutta questa grandissima solidarietà dopo il 2004 dopo il 2010 a noi non ci ha calcolato nessuno a parte le tifoserie amiche anche oggi mi pare di aver letto un comunicato dalla tifoseria Spallina a noi non è che ci hanno voluto proprio bene però adesso si ricordano chi è sempre stato superiore in queste settimane in questi anni ah noi non consideriamo più ma guarda un po' quando è venuta fuori questa notizia mamma mia che fastidio vi dico una cosa strana non vedo l'ora di perdere una partita in Serie C non so se capite ma negli ultimi anni perdere non era solo una sconfitta di calcio Fabrizio è perfettamente ragione perché ne parlavo anche con qualche collega con qualche amico questi giorni quando torneremo da una trasferta anche lunga ancora che ha perso saremo dispiaciuti ma sarà comunque una domenica serena negli ultimi anni quando capitava questo insuccessi quando capitavano questi insuccessi era un dramma cioè che ci accompagnava per una settimana intera con l'aggravante che poi qui uno la sera alle 18.30 si doveva sedere doveva in qualche modo analizzare doveva in qualche modo spiegare ospitare chi non era riuscito sul campo raccogliere pensieri i vostri sfoghi e adesso insomma se dovesse andare male una partita una sola non più di una comunque dormiamo uguale la notte questo hai ragione Fabrizio gli spallini sono sempre con noi e poi c'è una foto Ancona tica città di mare finalmente torna a sognare forza fratelli Canilla un appeal impressionante direi un appeal alla zaia anzi mi ricorda molto lui nel parlare poco e fare i fatti pura mestre parlano di noi ma roba da matti e lo so Anconetani tutti a comprare acquaraggia fidea togliamo qualche scritta dalla tribuna no magari bellissimo fidea per chi non lo sapesse è uno dei partner più importanti che ha sostenuto la famiglia Canina nell'avventura calcistica Paolo famo c'è due risate l'azienda principale di famiglia sì sì esatto Paolo famo c'è due risate va bene leggici qualche messaggino dei complessati invidiosi forza Ancona da Falconara no ma è l'ora di cena sono le 20.02 lasciamo perdere ma perché ci vogliamo rovinare io stasera ho provocato un po' ho stuzzicato perché poi dopo io non è che posso sopportare tutto è qui e allora così ho messo un po' di sale su questo bel piatto o pepe se preferite Barti61 manda un messaggio vocale no perché mi fai fare lettore così non penso che dobbiamo dare spiegazioni ad alcuno perché non abbiamo fatto nessun magheggio per fare il fallimento pilotato nell'anno che non ci sono retrocessioni come altri ne abbiamo fatto un buffo di 24 milioni come altri semplicemente abbiamo raccolto l'invito di un presidente imprenditore che vede nella nostra città un'opportunità per realizzare un progetto calcistico ambizioso se dobbiamo ringraziamenti imbarazzati ai tifosi matelicenzi che vedono allontanarsi 50 km la loro squadra c'è da dire che se non fosse stata Ancona sarebbe stata macerata quindi 10 km in più nient'altro spero di trovarmi in curva con gli amici di Matelica e Paesi Dimitrofi come succedeva in Serie B di in Serie A A sta la vittoria sempre da Barti pensate solo se nel 2016 arrivava Canile al posto di Ragneri devo dire un'altra cosa se mi ricordo me l'era puntata da qualche parte sì allora ritorniamo mi ritornate in mente ritorniamo alla conferenza per un attimo dell'altra sera alla Moleman Bitaliana c'è un passaggio che forse non è stato interpretato benissimo capito benissimo dall'ascoltatore che seguiva la diretta ed eravate tanti è stata una cosa straordinaria a livello di ascolti questa fantastica radio che vi tiene compagnia tutti i giorni parla due ore e più di Ancona un po' meno quando c'è Pepe Gallozzi perché solitamente lui è sempre molto indaffarato ha sempre qualcosa da fare quindi deve stare assolutamente nel rispetto dei tempi ma ha ragione perché la radio soprattutto è rispetto dei tempi questa sera ci siamo persi Francesco Repice Radio 1 Rai che ci aveva dato appuntamento per essere con noi per parlare un po' di nazionale che avevamo messo in scaletta ma per non rispettare i tempi è successo questo quindi ha ragione Peppino Nostro però riprendo l'altra sera Canil che cosa ha detto facciamo in modo di non essere soltanto la squadra di Ancona ma di territorio non voleva essere sfrontato non voleva essere superficiale con questo termine anzi anzi sia ben chiaro questo concetto perché io l'ho capito così poi magari se sbaglio lo chiarirà Canil appena ci sarà modo non dobbiamo commettere l'errore di fare l'orticello nostro Ancona e basta questo era quello che voleva dire Canil cerchiamo di crescere di arrivare sempre più in alto e per arrivare sempre più in alto c'è bisogno che non solo Ancona risponda ma tutto il territorio quando ha detto prendiamo il goniometro e cerchiamo di far confluire tutti che possono essere ragazzi del settore giovanile visto che c'è un bel progetto in essere e ci concentreremo su questo non trascurando proprio il discorso del vivaio ho dimenticato questa domanda perdonatemi a Roberta Noceglie al Presidente il settore giovanile attuale dell'Anconitana che sta facendo molto bene nelle varie competizioni quindi Canil non si riferiva soltanto ai ragazzi che dovranno arrivare per arricchire le squadre saranno molte impegnate anche in tornei nazionali da fuori regione cerchiamo anche di portare il tifoso da fuori regione a seguire l'Ancona da fuori provincia chiedo scusa a vedere l'Ancona da tutto il territorio questo intendeva fondamentale per crescere ma ci voleva Canil ma ci voleva Canil ma ci voleva Canil perché come ho detto anche ieri con il buon Ferdinando sfatto da un anconetano assolutamente no perché non dimentichiamoci che le società sportive a 15 km di distanza quindi come ha detto il presidente onorario Canil mettete il compasso fate il conto capite già a chi mi riferisco mai avrebbero concesso un loro giocatore all'Ancona dichiarazioni che abbiamo proprio percepito e registrato sulle nostre emittente io ridevo perché stavo cercando una foto da regalare ai nostri amici all'ascolto sulla nostra pagina facebook e ora la propongo e ti invito a guardarla perché fa la storia quando parlavamo da dove abbiamo seguito la nostra Ancona dove siamo riusciti a fare le radiocronache questo è il nostro Paolo Papili non ti vedo non mi vedo dove sono? sei sulla nostra pagina facebook allora guardo dal mio telefono chissà che foto sei andata a vedere sono andato sapevo di averla sono andato a recuperare questa è una bellissima postazione per radiocronaca fate un po' il conto in che condizioni poi ce ne sono altre di postazioni che meriterebbero una loro una loro pagina tutta sua per dire che differenza che come lo stato d'animo che può avere adesso la vedo adesso la vedo lo stato d'animo che può avere chi ha seguito i colori bianco-rossi in campi tipo rio salzo o altri con postazioni ce n'era una che sembrava che vi volevano far secchi con il fucile perché era una postazione molto simpatica anche quella insomma passare da da San Siro passare per chi l'ha fatto passare per il Dallara passare per stadi del genere ritrovarsi vabbè al del Duca per carità tutto quello che può essere la nostra storia eccetera ma piombare impostazioni simpatiche ti ringrazio Stefano di questa foto che mi fa ricordare molte cose tra l'altro quel giorno lì c'era una bella partita del settore giovanile Ancona era già promossa e c'era Cristian Camilletti che la seguiva in diretta contro la Vigor Senigallia credo c'era il ping pong tra il campo principale dove la prima squadra aveva vinto e Cristian Camilletti che la raccontava dall'altra dopo la partita con con il Montefano no chiaramente ci sono state delle riflessioni no da parte nostra da parte da parte mia mi ricordo domenica che ci eravamo quasi un po' sfogati tutti quanti adesso facciamo una riunione facciamo vediamo no io al fischio finale di Ancona Montefano ho detto ma signori miei io come faccio il prossimo anno a a ripresentarmi in questi in questo campionato per raccontare l'Ancona perché fare la radiocronaca ha bisogno di di fare emozionare principalmente radioascoltatore se non sono emozionato io se non la vivo più con lo stesso entusiasmo mi faccio da parte perché ho fatto la mia parte perché io l'Ancona da quando tu Stefano mi hai dato l'opportunità l'ho raccontata in C2 in C1 in B in prima categoria in eccellenza in promozione l'ho fatta praticamente tutte e mi sto avvicinando a quota 700 però comunque cadi ti rialzi finisci sempre più giù cadi ti rialzi finisci sempre più però reagiamo reagiamo ad un certo punto ci basta non la faccio più allora dicevo ok come Roberto Cardinali durante la trasmissione mi aveva detto qual è stata secondo te la radiocronaca il momento io ce n'ho un paio però ripensandoci io devo dire che non ho avuto la fortuna di Mimmo Cugini di raccontare l'Ancona la prima volta in Serie A su Radio Galassia non ho avuto la fortuna di Andrea Carloni che il 5 giugno l'88 ha riportato con Talevi Tacchi e Gadda l'Ancona in Serie B dopo 38 anni non ho avuto la fortuna di Mauro Anconetani di ricordare un gol che penso che sia la fortuna che te lo porti sempre ricordiamo Paolo Isca che stasera avevo invitato in radio ma non riusciamo mai a portarcelo ancora viene ricordata e giustamente Ancona Mestrina quei minuti finali io non ho raccontato un gol di quella portata sì il gol di Adami affermo ha avuto il suo valore il gol il gol di in C1 che siamo andati in B con Fialdini sì la salvezza in Mastronunzio a Rimini benissimo però forse magari un domani sarò ricordato mi piacerebbe questo almeno pensare che sono quello che non ha mollato e che ha cercato di raccontare l'Ancona sempre con poi magari è arrivato Canil c'è un'altra storia da scrivere ci saranno altri dati importanti ho parlato troppo di me a me non mi piace salire sul sul carro dei vincitori è facile quindi scegliere la categoria da dove ripartire io penso che sia di pregio e più di attaccamento non guardare la categoria ma seguirla sempre noi l'abbiamo seguita sempre e Paolo Papilli l'ha seguita sempre non ci siamo mai fermati anche se appunto come si vede dalla foto sulla nostra pagina Facebook in situazioni che magari sconsigliavano di effettuare una radiocronica anche perché magari dietro le quinte era ma guarda questi sembra che stanno parlando di una squadra di Serie A invece e noi abbiamo fatto quello che si faceva in Serie B in Serie A in Serie C la stessa identico lo stesso identico attaccamento alla squadra alla maglia ce l'abbiamo sempre avuto quindi l'attrezzatura che abbiamo utilizzato che per qualcuno sembrava spocchiosa era la stessa sì sì ma non è cambiato niente per noi non è cambiato niente chi stava dall'altra parte ci prendeva per i fondelli perché si guarda questi allora no allora se tu senti il radiocronista degli anni 70 degli anni 80 ti raccontano delle imprese incredibili la cabina telefonica con i gettoni collegamenti dai terrazzi bene nel 2021 la tecnologia aiuta un po' di più però lo stesso io devo dire che negli ultimi anni ho raccontato provato a raccontare poi non so sono riuscito non ci sono riuscito partite sopra degli alberi la torretta ho fatto radiocronache dietro davanti a un canile con un giocatore che correva lungo la fascia e tutti i cani logicamente che reagivano è stato comunque veramente molto bello va bene dovrei avere anche quella dietro la rete che sembravate carcerati tu e Ferdinando si poi c'è anche un'altra di Servigliano vicino a un bidone ma va bene guarda sembra che poi dopo uno vuole autocelebrarsi o comunque denigrare i posti che ti hanno ospitato ma non è questo il senso infatti Alessandro ti scrive sta foto in confronto a Servigliano è un lusso ecco ecco qualcuno ricorda va bene sono Gianfranco con Ancona nei professionisti non sto più nella pelle voglio dire tre cose penso che abbiamo una presidentessa super dobbiamo coinvolgere il più possibile gli amici di Matelica e Circondario tre sono molto contento per voi giornalisti e tutti quelli che alla fine con la squadra di calcio in fondo ci lavorano grazie grazie Gianfranco grazie Gianfranco noi nei Matelica e Circondario l'abbiamo cercato di coinvolgere perché se ci hai seguito grazie a Gianpaolo e vari amici che man mano che si sono aggiunti ma Gianpaolo ci ha seguito sempre però abbiamo coinvolto Castelra e Mondo abbiamo coinvolto San Severino ricordando insomma che anche se l'Ancona anzi l'Anconitana militava in una categoria assurda però c'era tanta tanta gente che stava lì e aspettava aspettava la rinascita quindi speriamo semplicemente che quello che abbiamo seminato negli ultimi anni che ci è costato tanto a fatica si è servito si è servito e abbia aperto le porte insomma a questa nuova ripartenza poi sarà sempre il campo a decidere Presidente non vediamo l'ora che arrivi l'inizio di questo campionato per sedersi di nuovo sui gradoni della curva e vedere questi undici ragazzi guidati dal mister e spinti da tutti noi tifosi avanti verso questa nuova avventura tutti uniti lo scrive Valentina Edemis che salutiamo e ringraziamo per questo commento che continuano ad arrivare sempre al 334 35 20 488 poi i nomignoli che da Stefano ragazzi Max 1 2 3 4 Fabrizio e vabbè se ci sono più di uno come faccio nipote di Bruno è così si è affermato così una volta solo il nipote di Bruno e invece è Francesco 3 e ora lo modifichiamo no Francesco 3 nipote di Bruno Pizzul segnalo io metto in base a quello che ci serve per identificare allora Nicola aveva scritto se c'è Pizzul tu non ci crederai stasera stamattina avevo chiamato proprio Bruno Pizzul per parlare un po' con noi ma ha declinato l'invito se vuoi vi leggo anche il messaggio sold out per me è da tempo ormai impegni continui ma ha risposto così e vabbè da lì era scattato l'invito a Francesco Repice che aveva accettato ma i tempi poi li ho sprecati tutti il bello è che con questa società potremmo diventare il centro per tutta la provincia non fermarci a Falconara o all'Aspio anche perché più gente c'è allo stadio più in alto si può puntare salutiamo Bruno Giacomo ti scrive Paolo hai raccontato Anconafano 2-1 gol dall'86esimo al 91esimo di Tavare Sebondi e poco non è sì però capite il senso non si possono paragonare delle situazioni belle estemporanee così con maestri sacri mostri sacri come il Paolo Isca Andrea Carloni Mimmo Cugini e Mauro Anconetani che hanno raccontato dei gol veramente che hanno significato moltissimo per la storia dell'Ancona l'Anconafano è stata sì una partita rocambolesca bella da raccontare ma dato gusto come si sente nel sonoro sembrava un pazzo però finito lì poi il pubblico gradisce ogni tanto riposta fa piacere ma niente di paragonabile questo era un po' il senso stasera che è tutto bello e di di lì io non scrivo niente lo scrivo a Renna no no invece Renna scrivi scrivi Cristian Barisani Paolo l'anno prossimo commentiamo insieme allo stadio adriatico Pescara-Ancona un onore averti al fianco a me in quello che una volta era il mio stadio Cristian sarò felicissimo tu hai delle notizie importanti riguardo prima ci chiedevano dei gironi tu sostieni per esempio che l'Ancona giocherà con con il Pescara noi avevamo altre informazioni magari ragione tu Pescara è sempre stata una bella trasferta io ho iniziato ad andare a Pescara con mio padre nell'89 quindi sono mai mancato Umberti Paolo qualcuno lassù questo mouse aspetta quale vuoi questo Paolo qualcuno ci ama e ci guarda tu sai a chi mi riferisco anche i sogni a volte diventano realtà sarebbe davvero davvero bello abbracciare il fratello di Matelica e gioire e piangere insieme per i nostri colori Umberti ci ho pensato ho pensato anch'io in questi giorni a molte cose Gianfranco l'avevamo letto il messaggio Gigio alla notizia della fusione ho avuto sensazioni davvero molto contrastanti ma la cosa a cui subito ho pensato vi giuro che siete stati voi voi di radio tua soprattutto tu amico mio ti ho visto fare radiocronache dietro a reti di plastica e seggio lì da sagra hai raccontato partite difficilmente abbinabili al gioco del calcio con la stessa passione che ci mettevi in serie B un abbraccio ragazzi ti vogliamo far commuovere e beh Paolo prenditi una camomilla che sei carico come una molla c'hai una certa età ormai e dopo non dormi la notte c'è ragione Alessandro prima che mi calmo e che prendo fiato ecco allora leggi tu qualcosa Max65 adesso credo che sarà anche e soprattutto compito degli anconitani appoggiare e sposare una giusta causa senza troppe pressioni facendoli lavorare con i giusti tempi e obiettivi con i tifosi che sicuramente faranno la propria parte e se gli sponsor dovessero essere in tanti sarà un connubio perfetto con la nuova società per sognare un futuro Rosio Max65 ha mandato un messaggio Gianluca dalla Germania che saluto è fantastico io adesso come lo leggo questo cioè hai ragione senza punto di domanda hai ragione basta che non fa come Margheritoni ecco per chi ha visto un film magari ecco tra l'altro ambientatore Le Marche può fare può capire dove vuole arrivare Gianluca dalla Germania comunque senza punto interrogativo è così sapete per caso se l'azienda importante di informatica di Matelica che mi sembra accompagnare il Matelica prima rimane sponsor anche ora sarebbe un gran colpo azienda importante a livello nazionale mi sembra Alla Informatica grande azienda mi pare di sì è stata ricordata proprio da Canil durante la conferenza stampa comunque Gianluca vinci questa sera proprio anzi mi hai risollevato un attimo il morale dalla commozione Guido ci nascondi qualcosa riguardo i nomi che dovrebbero arrivare Guido mi mette in croce vuole sapere tutto da me io sto cercando di marcare stretto Micola ma è impenetrabile in questo momento è anche molto presto però ragazzi io capisco che siamo e siete tutti molto impaziente volete già conoscere la squadra ma calma Barti 61 vai Barti 62 dice Paolo sei il migliore se ti chiamo il repice di noi altri non è per canzonarti io ti ringrazio ma stasera ci sarebbe stato quello vero sarebbe stato davvero un piacere sentirlo quanto rosicano laggiù non leggete i messaggi che rosicano e danno fastidio l'accordata che stava facendo Sturani con imprenditori locali ma nessuno voleva fare il presidente però si possono fare avanti fatevi sentire imprenditori locali Forza Ancona ancora non ci credo Forza Ancona e Avanti Dorici era stata un'idea più che altro c'è un complimenti un complimenti che arriva da Stefano 73 ma non so se c'è un pezzo davanti però a sto punto sì 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 è arrivato tagliato competente simpatica Belladonna complimenti Stefano 73 era per il presidente Roberto sicuramente per il presidente non per noi due Presidentessa spingete subito con delle belle amichevoli che abbiamo bisogno di calcio vero da subito ho dato il tempo anche di avere una conoscenza esatta della riapertura dello stadio 20 e 21 faccio ancora fatica a crederci solo pochi giorni fa si estevo sconsolato alla partita che ci relegava per il terzo anno consecutivo in eccellenza e oggi sento parlare la presidente Nocelli con un entusiasmo e una genuità marchigiana che se è vero mi sta facendo commuovere un abbraccio a tutti da Massimiliano vecchio cuore bianco rosso ragazzi siccome voi piangete tutti noi non la chiamiamo più invece la chiameremo ancora perché ci ha fatto una grandissima impressione ma già ce l'aveva fatta il giorno della conferenza ci ha colpito veramente dai la risentiremo molto volentieri appena ci sarà la possibilità appena l'ufficio stampa ci darà a questa occasione come primo anno mi accontenterei di avere una buona squadra che ci faccia divertire vincere tutti i derby dai volete fa tardi chiedo per un amico invito tutti gli ascoltatori a mandare 10 messaggi ognuno obiettivo fai e fa le 9 siamo a buon punto però siamo a buon punto max 65 il mio sogno soprattutto soprattutto per potenziare il settore giovanile sarà vedere in un tempo prossimo un paio di campi di calcio del Conaro sarà la condizione del progettare in continuità il calcio ad Ancona questo è un sogno che abbiamo in tanti quello di non dover di nuovo tutte le volte ripartire da zero sarebbe la volta buona speriamo ma Radio Tua diventerà la radio ufficiale dell'Ancona Matelica non lo possiamo dire noi intanto ci accontentiamo di essere la radio ufficiale dei tifosi biancorossi come abbiamo sempre detto si si ma poi saranno scelte che poi per quello che riguarda invece la società alziamo le mani saranno scelte che dovranno fare altri noi siamo a disposizione poi sarà Stefano Fera quanto sono curiosi tutti adesso grande voce dei 90 minuti quando le corde vocali fanno la differenza e Davide ti scrivi il numero uno dei radio cronisti ce l'abbiamo noi grazie grazie io qui ho altri pensieri ce n'è qualcuno pronto di messaggio vocale così facciamo siamo alla alla coda allora io sto facendo io provo a leggere qualcosa su Facebook nel frattempo che tu fai questa operazione bravo Paolo di Montessambito orgoglioso di esserci sempre stato dalla serie A la prima categoria come Rosi con il nord abruzzesi e Terre dei Mare ma devo dire meno i sanbelenettesi che sanno cosa significa la sofferenza quindi hanno un rispetto diverso orgoglioso di esserci sempre stato dalla serie A la prima categoria ancora sì ci sarà il Pescara dai sono sicuro furto mi sembra troppo il messaggio diceva chiaramente che il calcio è cambiato gli interessi sono cambiati sì forse anomalo ma ti faccio un esempio la Fiorentina di svariati anni fa che saltò due categorie si ritrova in B per il bacino l'utenza che A ti sembra giusto che una città come la nostra sia impantanata in eccellenza per tre anni di seguito stanno rispondendo tra loro saluto Lauretta grande Paolo ci coinvolgi sempre ma ci mancherebbe altro Lauretta un piacere un dovere proprio ancora saluti ancora vicinanza la presentazione della squadra secondo voi sarà il porto antico Massimiliano ogni angolo ogni spigolo della città è stupendo io non so come dove se si potrà fare però sarebbe davvero suggestivo questa volta farla farla al porto antico ma cosa ce ne frega degli altri abbiamo svoltato adesso cercamo di mantenere per sognare veramente in grande siamo solo all'inizio di un giochino molto interessante poi ancora messaggi allora dai l'ultimo è il volo al volo è tardissimo ragazzi ma dopo la replica ce la taglia brutalmente c'è una proposta qua che ci arriva vediamo di farlo che bello leggere dell'Ancona anche sulla gazzetta perché faccio fatica a scrivere in questo momento di grande cambiamento magari riuscissimo a coinvolgere il territorio ma io vi faccio un esempio se anche la Vigo Senigallia andasse in serie A io rimarrei comunque sempre legato ad Ancona alla città di Ancona alla squadra di Ancona quindi mi domando perché gli altri poi dovrebbero così sposare il progetto Ancona venire a tifare per noi che sarebbe la cosa più bella certo si potrà raggiungere quando noi diventiamo se riusciremo a diventare importanti come grandi squadre ma ci credo poco minché sono felice del cambiamento di Canil mi piace tantissimo la Presidentessa come parlano molto verace come sono in parte un po' tutti i marchigiani è la grande esperienza di affidabilità di Canil senza non vi togliere l'imprenditoria locale che comunque sia determinato un fallimento di tutta l'imprenditoria locale e dicevo forse in questo momento il grande cambiamento come mai non abbiamo più modo da perdere solo da guadagnare non si potrebbe pensare a un nome legato all'Ancona Calcio che ci si possa identificare anche il resto del territorio dico una stupidaggine sono prima che mi viene in mente Ancona Marche Ancona PR che vuol dire Ancona provincia che va fatto dell'Asperona che hanno questi nomi doppi c'era così l'idea anche questo se può servire a identificare uno della provincia nella squadra perché non solo Ancona credo che rimanga appassionata solo gli anconetani e pochessimi altri ecco una considerazione non ci ridete sopra grazie Gino del tuo commento ce ne erano altri volevi farmi riascoltare questo che è brevissimo così possiamo chiudere vai effettivamente sono impegnato con la visualizzazione in diretta su Rai Sport scusate lo spot una televisione concorrente nella finale playoff valida per un posto in CNB e quindi per questo non posso intervenire in radio ma io sono sempre con il cuore e con un buon bicchiere di vino autotono con voi gol applausi a Nicola io ci avevo provato a portartelo in radio anche per farti una sorpresa ma ha declinato Bruno e richiedono le amichevoli qui vogliono assolutamente vedere partite con squadre importanti dai se sarete sicura la radio ufficiale dove mette una cinquantina di ripetitori per sentirvi da tutte le parti ma ma potrebbero esserci anche qui delle novità a prescindere dall'ufficialità o meno potrebbero Cristiano continua a seguirci come sempre fatto perché poi ci sono i ripetitori 98 e 500 92 e 2 che tra l'altro si sente in FM anche a Matelica ma ormai con le applicazioni con Facebook e poi chissà anche con qualcos'altro stai sintonizzato allora va bene siamo alla fine però vi ricordo che il calcio non si ferma qui oggi per i prossimi giovedì alle 22.30 torna Marco Piccari torna TMV Radio il collegamento nazionale con tutto europeo quindi si faranno le pulci ai match appena disputati e ovviamente si parla di Italia si parla delle partite che sono in calendario oggi dalle 22.30 fino a mezzanotte e mezzo si va avanti parlando di calcio sulle frequenze di Radio Tua grazie a Marco Piccari e TMV Radio il protagonista poi tutti i giorni con Radio Maracana sulle nostre frequenze ieri siamo stati proprio ospiti della trasmissione condotta da Marco Piccari con Massimo Agostini con Alessandro Nista e si è parlato di Ancona eh? eh sì perché si è parlato di Ancona se non ne parlano loro a livello nazionale e ci pensiamo noi a stuzzicare e far parlare a livello nazionale eh amico mio eh ognuno fa quello che può eh e quindi come rompiscatole siamo bravi e noi possiamo e noi possiamo essere dei grandi rompiscatole per i colori bianco-rossi e grazie a Paolo Papini grazie a te Stefano chissà quando ti rivedrò domani 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 con altri ospiti di sicuro interesse con tanti intrusi con tanti eroi della tastierina che continueranno a divertirsi ma noi siamo qui eh siamo qui è confido domani di avere un un presidente che manca da un po' chissà ascoltateci dalle 18.30 se vi fa piacere perché noi ci siamo a domani replica per quanto possibile all'una e mezzo questa notte alle 13 domani e poi 18.30 ultimo appuntamento settimanale grazie a voi per essere stati sulle frequenze di Radio Tua e soprattutto grazie per essere stati su Punto Bianco Rosso ciao Punto Bianco Rosso Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30 e tutti